bella ragazzi prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un bel salto nel primo link in descrizione instant gaming ragazzi dove troverete come vedete alle mie spalle un sacco di bundle di fortnite anche a prezzi scontatissimi mi raccomando instant gaming bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e oggi ragazzi voglio parlarvi di un sacco di cose interessanti che sono successe e che succederanno per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite ragazzi ovviamente siamo con gli amici del gruppo telegram di fortnite itali ragazzi andate a vedere in descrizione il loro link trattano anche loro un sacco di news di fortnite nel video di oggi ragazzi non possiamo non parlare delle sfide che sono arrivate con l'evento della sfera ma noi le vedremo tutte le sfide non solo quelle che ci hanno mostrato in game parleremo anche e vedremo le nuove skin delle armi e dei veicoli davvero molto molto belle e ragazzi ci sono delle grandi importanti informazioni sul nuovo starter pack il bundle cobalt vi ricordo quindi ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale e mi raccomando attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento su fortnite ma prima ragazzi lo sapete ragazzi la domanda ve la devo fare la domanda i vostri commenti mi raccomando proprio qui sotto li voglio leggere ragazzi vi metto i cuori perché li leggo tutti la domanda è semplicissima ti è piaciuto l'evento io l'ho visto in ritardo non l'ho visto in diretta e non voglio dirvi la mia voglio prima leggere i vostri commenti poi commenterò anche io con quello che mi è sembrato l'evento fatemelo sapere ragazzi che ci tengo davvero un sacco ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andrei subito come apertura ragazzi ad andare a dare un'occhiata da una bella visuale il nostro evento ragazzi ed è veramente una figata incredibile come state vedendo alle mie spalle lo andiamo a vedere ragazzi evento davvero di dimensioni interessanti il re dei ghiacci che su se stesso gira la mano ragazzi prepotentemente meravigliosa questa angolatura del dell'evento ragazzi e come vedete rilascia un enorme tempesta di ghiaccio che travolge completamente tutta la mappa man mano che la congela quindi le teorie che vi avevo detto ieri nel video si sono confermate ragazzi tempesta assolutamente incredibile graficamente parlando rende completamente la mappa di ghiaccio ragazzi neve a 360 gradi staremo ovviamente a vedere adesso che cavolo succederà con tutta questa neve ragazzi quindi lo abbiamo visto insieme e andiamo avanti ragazzi parlando ovviamente del tweet ufficiale che ha pubblicato epic games sulla sua pagina twitter dove annuncia in poche parole la skin che dovrebbe essere presente oggi nello shop sto registrando il video qualche ora prima della una quindi in teoria dovrebbe esserci la regina dei ghiacci il tweet dice a new kingdom rises prepare for the battle diving now to take the ice legion and survive the storm quindi è pronta la nuova battaglia preparati e cerca di combattere la legione del ghiaccio e sopravvivere alla tempesta che è scaturita sulla mappa veramente molto bella anche la skin della regina dei ghiacci molto bello anche il piccone staremo un po a vedere ragazzi come si protrarrà nei prossimi giorni ovviamente l'evento ma andiamo avanti e parliamo appunto ragazzi di quello che è arrivato con l'evento quindi le sfide che tutti conosciamo sfide tempesta di ghiaccio 13 sfide in totale al completamento della tredicesima ci viene regalata il la slitta oscura tra virgolette quindi tempesta di ghiacci no la sli come cavolo si chiama non lo so insomma comunque un nuovo deltaplano ma al completamento ragazzi di sei sfide ci viene regalata una delle due skin per armi e veicoli quindi gg per il regalo che ci fa ep games una skin carbonio blu dovrebbe essere secondo me adesso non so bene il nome preciso ma è questo ma eccole qua invece ragazzi tutte le sfide che dovremmo affrontare partendo diciamo dalla quarta che è quella che ancora non sappiamo distruggi 20 brutti d'oro ghiacciati distruggi gli ice fiends dovrebbero essere i punti di spawn dei mostri poi ne abbiamo tanti fai danni con fucili a pompa e mitragliette ai mostri 10.000 di danno fai danni con il fucile d'assalto o la pistola ancora 10.000 insomma ragazzi fino ad arrivare all'ultima sfida e ottenere appunto il nuovo deltaplano guardatevele con calma ragazzi queste sono tutte le sfide che dovremo affrontare ma andiamo avanti e soffermiamoci ragazzi un secondo sulla camo che vi avevo detto questa ragazzi è il regalo che ci verrà fatto ve la voglio fare vedere ragazzi direttamente in game eccola qua ragazzi il blu metallic molto molto interessante molto molto carino ragazzi come vedete andrà a adornare i nostri veicoli in una maniera davvero bellissima mentre questa hot and cold è un'altra camo ragazzi che verrà non si sa bene come verrà fornita questa camo se sarà possibile prenderla nello shop o se invece sarà regalata con le sfide entrambe molto molto belle a me piacciono tantissimo le skin extra per armi e veicoli ma andiamo avanti ragazzi e parliamo della balestra ovviamente torna insieme ai mostri anche l'arma che permette di ucciderli in maniera molto più rapida e molto più efficiente la balestra che già abbiamo visto ragazzi sappiamo benissimo come funziona è possibile anche trovarla nei distributori appunto dall'evento fino al termine quindi tanta roba ragazzi diciamo mi sembra che abbia un moltiplicatore per 4 di danno ogni volta che colpiamo un mostro un mostro della legione del ghiaccio fa anche abbastanza male agli avversari ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di un'altra cosa incredibile questa arriva direttamente da un utente spagnolo se non ricordo male dovrebbe essere spagnolo questa è un'immagine presumibilmente veritiera ragazzi che ci conferma il nuovo starter pack cobalt ragazzi come vedete 4 euro e 99 il classico prezzo è degli starter pack e al suo interno saranno regalati 600 v bucks 500 di base 100 regalati da epic games mentre il pack in sé comprenderà la skin cobalt e il backpack lo scudo in poche parole simile a quello che ha anche lo spaccatuto davvero molto molto interessante questa immagine ragazzi che conferma appunto l'arrivo del cobalt ma parliamo di un ultimo argomento davvero molto curioso che è proprio questo quadratino che c'è in cielo ragazzi voglio farvi vedere un filmato più che un'immagine quello che avete intravisto prima questo ragazzi sta fluttuando sui cieli di fortnite e non sappiamo se sia un glitch o se sia una parte di cubo che sta per arrivare è davvero molto particolare vedete rota su se stesso ragazzi non non sappiamo bene che cavolo sia però è a forma quadrata nel senso allora se volete la mia secondo me ragazzi secondo me è un bug non è assolutamente niente di particolare ma potrebbe anche essere quello che magari sarà il futuro del cubo ragazzi sappiamo che il re dei ghiacci aveva tra le mani un frammento di cubo e adesso siamo tutti ad aspettare se questo cubo tornerà oppure no beh ragazzi io per oggi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale noi siamo in live tra pochissimo ciao e non parte mai l'altro iscrivetevi al canale